E proprio mentre l'amministrazione comunale eloggia il prossimo evento Dior, alcuni consiglieri di opposizione avanzano diversi dubbi sulla gestione ed utilità dell'evento stesso. Io come i colleghi di opposizione abbiamo fatto notare che la manifestazione avrà sicuramente un fortissimo impatto mediatico, darà lustro a Dior come alla nostra città che ospita l'evento. Ci dispiace però che chi non è stato tenuto in considerazione è proprio la cittadinanza, sono proprio i leccesi. Loro non potranno partecipare per motivi che ovviamente non dipendono da noi ma avremmo gradito ci fosse stata da parte dell'amministrazione una forma di attenzione che potesse tutelare in qualche modo anche la loro partecipazione. Alla fine il ricordo non rimarrà per i leccesi di questo evento. Non sappiamo in che forma questo si sarebbe potuto garantire però dispiace che non ci sia stato un tavolo di confronto per poter mettere sul piatto qualche idea. Siamo che la manifestazione rappresenta un grande prestigio per la città di Lecce, per la comunità, un importantissimo evento internazionale che darà sicuramente lustro alla città di Lecce ma che va affrontato in un certo modo considerato il periodo di post-covid. Noi sappiamo che l'evento sarà a porte chiuse ma ospiterà 200 persone. Queste 200 persone molto probabilmente la maggior parte viene da fuori, molto probabilmente la logistica comprenderà in virtù del settore, della moda, la presenza di numerosi partecipanti che arrivano probabilmente anche da Milano, dalla Lombardia. Questo impone all'amministrazione comunale che non è l'ente organizzatore ma all'obbligo e il dovere di garantire la sicurezza e il controllo uno sforzo per garantire le distanze, evitare gli assembramenti e garantire che tutti gli ospiti ma soprattutto tutti i cittadini leccesi residenti in particolar modo nel centro storico possano agire in sicurezza ed in tranquillità. Grazie 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 Grazie